Io qua ho messo occhio al falsario Cosa significa occhio al falsario? Che in questo periodo storico ci sono una valanga Una valanga Di etichette farlocche Che con, diciamo, la veste di etichetta discografica Oppure mettendosi nella veste di etichetta discografica Sapendo che l'artista è debole dal punto di vista promozionale E quindi cerca un rapporto, cerca un contratto con l'etichetta e tutte queste cose qui Si mette di fronte questa etichetta di dire Io sono un'etichetta per fare che cosa? Per venderti servizi Venderti servizi Cosa intendo dire con questo? E questo è uno statement forte che io voglio che vi appendiate sul frigorifero Dove volete voi Non ho mai incontrato un'etichetta discografica vera Ok? Che di fatto vendesse servizi Soprattutto servizi produttivi o servizi promozionali Cioè cosa significa? Che quando voi vi trovate di fronte a un'etichetta che vi indora la pillola E poi a un certo punto vi dice Sì, però se vuoi produrre della musica Oppure se hai bisogno dell'ufficio stamp Noi abbiamo il nostro E ti possiamo fare avere Un prezzo amico di favore Fate attenzione Quelle non sono etichette Le etichette discografiche vere Le etichette discografiche serie Guardano altri parametri Guardano a che punto è il vostro progetto Guardano quanto questo progetto ha già mosso Dal punto di vista proprio dell'interesse E dei feedback di mercato E nonché l'economia E ne fa un discorso di gestione Ok? Delle opere in catalogo E ovviamente Di diretta conseguenza Anche dell'attività dell'artista Ma Non esiste Veramente Non esistono etichette serie Che vi vendono servizi promozionali Non esistono etichette serie Che vi vendono l'ufficio stampa Non esiste Non esiste Perché? Perché lo E vi do anche questa spiegazione Perché magari molti di voi Possono essere scettici Perché Essendo un rapporto di partnership L'etichetta seria Dà per scontato Che tu hai un'attività E che te la sai gestire Dal punto di vista business Dal punto di vista del tuo sistema Di marketing E del tuo sistema di promozione La risposta diretta Al massimo Ripeto Possiamo Spingerci a vicenda Ma non esiste Che io Etichetta Siccome tu Non hai Questo Magari Questo sistema di promozione Allora guarda caso Ti posso dare Il contatto Di un nostro partner Che si occupa esattamente Di questo Con cui puoi Instalare un rapporto E ti chiedo dei soldi Non esiste Questa cosa qua Non esiste Quindi Se trovate Delle persone Che di fronte Al Al mettersi L'etichetta Di etichetta discografica Vi vendono Dei servizi Siete Molto probabilmente Di fronte A un'etichetta Farlocca Fate Attenzione L'unica differenza E questa ci tengo a citarla Sono per quelle realtà Che hanno Di eichetta Suяла Demonstrat verga Di etichetta Dei servizi La mia è la mia Amina Mi E having Che 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.